È il giorno del bilancio all'Aquila dove dopo settimane di polemiche, scambi di accuse e tensioni che hanno interessato la stessa maggioranza con i consiglieri dell'ala di sinistra che hanno annunciato il voto contrario, il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi su un documento tecnico per evitare lo scioglimento dell'assise. Un documento di programmazione economico-finanziaria che su molte voci riporta la sconsolante cifra dello zero a partire da sociale, cultura e sport, tagli di servizi e lacrime sangue, testimoniato dall'aumento del 20% della tassa sui rifiuti. Se non ci sarà un ulteriore innalzamento delle imposte, ha annunciato il sindaco Cialente nei giorni scorsi, è solo perché dal governo arriveranno i fondi richiesti per coprire le maggiori spese e le mancate entrate legate al sisma. Da Roma non arriveranno i 24 milioni richiesti, né 18 che in un secondo momento sembravano sufficienti, ma solo, tra virgolette ovviamente, 16 milioni annunciati con una lettera dai sottosegretari De Vincenti e De Micheli che verranno sbloccati con il decreto enti locali. Il via libera dovrebbe, salvo imprevisti, arrivare a metà giugno e a quel punto la Giunta Comunale si riunirà d'urgenza per votare un maxi emendamento che sarà dunque il vero e proprio bilancio di previsione dell'ente, che verrà poi discusso in prima commissione e in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. La seduta di oggi pomeriggio, con l'eventuale seconda convocazione per mercoledì prossimo, rappresenta sicuramente una particolarità, se non proprio si vuol parlare di un'anomalia, con le opposizioni sul piede di guerra e veleni che hanno lacerato la stessa coalizione di governo. Difficile però pensare ad una clamorosa caduta di Cialente dei suoi, visto che al momento nessuno sembra intenzionato ad andare ad elezioni anticipate. La raccolta firme per far cadere la maggioranza annunciata dai salviniani si è rivelata un fuoco di paglia e da fonti ben informate risulta che anche nelle opposizioni non tutti sembravano propensi a porre il proprio sigillo sul documento di sfiducia al sindaco. Meglio un bilancio tecnico che andare al voto, pensano molti a Villa Gioia, in attesa di riposizionamenti i movimenti che porteranno alle amministrative del 2017, la cui campagna elettorale, con buona pace di molti, è già iniziata da tempo.